Sabrina Garofalo ha soverato per presentare questo suo libro in collaborazione con Ludovica Luppolo. Ioppolo, ci racconti un po' di che cosa parla? Lei diceva prima l'andrangheta raccontata al femminile. Sì, questo è un libro che nasce dal voler raccontare l'andrangheta dal punto di vista della vita quotidiana, da come il potere dell'andrangheta viene vissuto e influenza la vita delle donne e degli uomini. È un libro che parte dalla vita quotidiana, sono storie di donne e uomini semplici, storie normali, noi le chiamiamo le piccole storie, volevamo un po' raccontare dal punto di vista delle donne e degli uomini come il potere dell'andrangheta ha influenza sulla propria vita, sono storie di persone che si innamorano e che quindi devono costantemente attraversare quel confine incerto tra l'andrangheta e l'amore, tra la morte e la vita. Quanto della sua storia personale c'è in questo lavoro? Noi ci siamo tutte, siamo noi stesse, questo è un libro scritto da donne, un libro scritto da giovani donne del sud e ci stiamo dentro da ricercatrici e da cittadine calabresi e siciliane. È stato difficile trovare queste storie in Calabria? Le storie delle vittime innocenti in Calabria sono tante, quindi è stato difficile sceglierne, scegliere quali potessero essere quelle simboliche in generale da poi lasciare nel libro. È stato molto, il lavoro è stato difficile perché è faticoso lavorare con queste storie e con questi argomenti, però abbiamo avuto la fortuna di essere in una comunità che noi chiamiamo una comunità di memoria e di impegno, oltre che di ricerca, che ha fatto la differenza.